Se il 2016 era andato in archivio come l'anno dei record per il turismo pugliese, con l'ingresso della regione nella top 10 italiana per numero di presenze complessive, il 2017 non è stato certamente da meno. Questo secondo la foto scattata dall'osservatorio regionale del turismo che ha tracciato un bilancio dei primi nove mesi di quest'anno analizzando i dati forniti dalle strutture ricettive del territorio attraverso SPOT, acronimo di Sistema Puglio per l'Osservatorio Turistico. Numero in crescita come il più 3-4% da gennaio a settembre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente con un ulteriore incremento del turismo internazionale per arrivi e pernottamenti. Un trend positivo che ha coinvolto tutto il territorio pugliese da nord a sud con risultati particolarmente rilevanti per le province di Bari, Lecce e Barletta-Andreatrani. Ottimi i risultati raggiunti nel periodo estivo, la regione si è piazzata tra i primissimi posti nella classifica italiana del turismo balneare con un incremento di presenze di circa il 23% secondo un'indagine della Confederazione Nazionale Artigianato e piccola media impresa dei balneatori. A pagare, secondo i dati dell'osservatorio, sarebbero state soprattutto alcune scelte strategiche come le azioni di potenziamento e qualificazione dell'accoglienza che hanno coinvolto la rete degli infopoint turistici con il finanziamento di 54 comuni nel periodo estivo e 69 in quello invernale. Ma il 2017 è stato anche l'anno della promozione turistica con diverse campagne nazionali ed internazionali, pensate per esaltare itinerari e prodotti turistici. L'obiettivo sui mercati esteri è stato quello di allungare la stagione turistica in Puglia, concentrandosi sulle destinazioni europee collegate con i voli diretti dove la regione si è resa nota negli ultimi cinque anni e che costituiscono un'importante fonte di arrivi e presenze. Tanti anche gli appuntamenti che hanno visto la Puglia come protagonista, da quelli sportivi, come il Giro d'Italia, a quelli culturali ed enogastronomici, ma anche le fiere e i workshop internazionali ai quali la regione ha partecipato, mettendo in vetrina le sue eccellenze, le stesse che sono un motore trainante dello sviluppo e l'anima di un marchio in continua espansione.